Sono otto gli enti della provincia di Messina tra i 46 in Sicilia che sono stati inseriti nella graduatoria regionale definitiva e che hanno ottenuto contributi per la diversificazione delle attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare del programma di sviluppo rurale della Sicilia 2014-2020. Tra queste hanno ottenuto 100 punti e richiesto un contributo rispettivamente di 100 e di 99.600 euro e sono al secondo e terzo posto in graduatoria la Fraternità di Misericordia di San Piero Patti e l'associazione Sorge il Sole e Ollus di Patti. Seguono all'undicesimo posto l'associazione di promozione sociale Le Miniere APS di Fondachelli Fantina con 90 punti e una richiesta di 99.680 euro. Al ventunesimo posto c'è Open Sicili di Tusa con una richiesta di contributo analoga. Al ventinovesimo l'associazione Proloco di San Teodoro con la richiesta di 81.000 euro e poi troviamo al trentottesimo posto la cooperativa San Vincenzo de Paolo di Milazzo, in avanti la cooperativa sociale Nuovi Orizzonti di San Fratello e la Global Services ARL di Mistretta con richieste per 100.000 euro. L'insedimento in questa graduatoria regionale definitiva non comporta un diritto di finanziamento e si potrà procedere all'eventuale concessione del sostegno dopo la verifica istruttoria tecnico-amministrativa. La regione nel contempo ha proceduto al pagamento dei ristori agli enti del terzo settore in seguito alla crisi determinata dall'emergenza Covid-19. La regione ha ripartito 1.344.000 euro fra le 330 organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le Ollus siciliane, che hanno presentato istanza all'avviso 2 del 2021.